Ci troviamo in teatro 18 anni fa sono entrato per caso all'interno di una scuola di danza in generale non avevo mai frequentato una scuola di danza fino a quel momento per imparare il latino americano perché avevo conosciuto delle persone che avevano conosciuto a loro volta delle persone che pensavano che la Max Pallet fosse la scuola giusta per imparare il latino americano e poi mi sono ritrovato incastrato in un nuovo modo di vivere, di vedere e di sperimentare la mia vita che mi ha portato a vivere il teatro e qui adesso io vivo vivo la mia vita, vivo il mio lavoro, le mie passioni e tutto ciò l'ho visto e sperimentato grazie alla Max Pallet dove 18 anni fa casualmente sono entrato grazie